Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video. Io sono Iman e questo è il canale dove parlo di libri. In questo video volevo raccontarvi un libro che ho finito di leggere di recente e che mi è piaciuto tantissimo. L'ho letto con il mio gruppo di lettura che si chiama Iman's Book Club e se volete farne parte potete scrivermi qua sotto in un commento oppure contattarmi su Instagram. Insomma in questo gruppo di lettura il libro di settembre è stato Menzogne e sortileggio di Elsa Morande. Inizialmente pensavamo di riuscire a leggerlo entro il mese perché abbiamo letto anche Solenoide di Mircea Cartarescu e quello era proprio gigante però in un mese bene o male siamo riusciti a finirlo. Questo invece in verità nonostante avesse meno pagine è stato un po' più difficile infatti l'abbiamo tenuto anche come libro di ottobre perché io non sono riuscita a finirlo in tempo ma non solo io. E' un libro infatti che richiede tempo richiede concentrazione non è un libro da leggere velocemente cioè io l'ho letto con calma e me lo sono proprio gustata dalla prima all'ultima pagina senza fretta senza ansie varie. Quindi abbiamo preferito mantenerlo anche come libro di ottobre perché proprio ti immergi in questa dimensione che adesso vi racconto. Allora c'è da dire che Elsa Morande scrisse questo libro tra il 44 e il 48 mentre si trovava a Roma quindi subito dopo la guerra però a leggerlo nonostante sia stato scritto nel 900 rimanda un po' ai grandi romanzi dell'ottocento. Come per esempio Vicerei di De Roberto come personaggi come anche entità proprio come romanzo come prosa richiama un po' a me a me è ricordato molto Vicerei sarà che l'ho letto da poco. Non per gli argomenti però insomma come stile. Questo romanzo è ambientato a Palermo in un lasso di tempo tra la fine della Belle Epoque e la prima guerra mondiale però non ci vengono date indicazioni. Lo si può capire un po' dalla trama si può capirlo un po' anche magari da qualche coordinata geografica però non viene mai nominato a Palermo. E' interessante perché quello che conta per Elsa Morande in questo libro non è tanto dove siamo e quando ma è più che altro un'atmosfera che sembra quasi fantastica. Cioè non è importante sapere dove siamo perché l'atmosfera che descrive lei è proprio un'atmosfera che sembra a metà tra sogno e realtà un po' polverosa un po' fantastica anche se in realtà non ci sono veri e propri elementi tipici del fantastico. Allora di cosa parla questo libro? Allora questo libro parla di tre donne vissute appartenenti a generazioni diverse che sono la nonna Cesira, la mamma Anna e la figlia Elisa che poi appunto è Elisa che narra la vita della nonna, della mamma e poi anche di se stessa. E queste donne oltre ad essere insomma legate da un legame di parentela sono anche accomunate proprio da un'infelicità di fondo, dal fatto che nella loro vita è proprio presente la menzogna in ogni piccola parte della loro vita. E questa menzogna poi le porterà alla follia perché molto spesso la menzogna è una menzogna che loro stesse hanno cercato, loro stesse hanno creato, cioè si sono create dei grandi castelli di carta che poi si sono crollati. Quindi praticamente la loro vita è una vita di miseria, una miseria sì economica perché comunque tra le menzogne ci sono anche le menzogne di tipo economico, ovvero che una di loro si sposa credendo che il marito sia ricco e invece non lo è, eccetera eccetera. Sempre per cercare di avere una vita a cui loro non possono ambire diciamo. E quindi sì la miseria è sia a livello economico ma più che altro a livello sentimentale perché queste donne sono proprio delle donne aride, delle donne cattive. Soprattutto la nonna e la mamma più che più che cattiva è più che altro pazza, diventa pazza, sempre per colpa di queste menzogne che poi lei stessa si crea. Allora Elisa è l'unica l'unica persona che avendo vissuto tutte queste vicende della nonna e della mamma da piccola, soprattutto quelle della mamma perché della nonna non penso che lei si ricordi tantissimo ma che magari qualcuno le abbia raccontato qualcosa. Avendole vissute da piccola, lei inizialmente non capiva quello che stava succedendo ma avendo scritto queste memorie comunque dopo tanti anni, lei si è proprio resa conto del problema che avevano, della menzogna che si è proprio insidiata nelle loro vite e ha rovinato tutto. E quindi è molto bello vedere questo aspetto dell'ultimo anello, diciamo, della generazione che si rende conto di quello che è successo, cosa che le altre due donne purtroppo non sono riuscite a fare. Il titolo Menzogna e sortileggio è proprio un titolo calzante. Menzogna ve l'ho già spiegato un po' perché la menzogna è importante su questo libro, perché c'è la menzogna che si basa praticamente tutto questo libro. Perché non solo i personaggi principali, ma tutti i personaggi sono comunque o loro stessi fondano la loro vita sulla menzogna o comunque la subiscono da altre persone. Quindi la menzogna è onnipresente in tutto il libro. Sortileggio perché, non perché ci siano elementi magici, come ho detto, però comunque in tutto il libro, come vi ho spiegato, c'è questa atmosfera di un po' di stregoneria, di fantasmi del passato che ritornano, di un po' di sogno, di spettri, di incantesimi, però in realtà non c'è nulla di tutto ciò. Però rievoca un po' questa atmosfera un po' magica, diciamo. Infatti ci sono degli amuleti, per esempio nel libro c'è un anello che ritorna per tutto il libro, che è importante nel libro perché viene regalato, poi viene restituito, poi a distanza di mille anni viene ritrovato, poi... Insomma, questo anello ha un ruolo in tutto il libro e l'amuleto è proprio un trucco narrativo che Elsa Morante utilizza anche in altri libri, come per esempio nell'isola di Arturo, che è l'unico che ho letto. E il sortileggio è una... anche questa è una cosa che ritorna nel libro perché ci sono... c'è questa atmosfera un po' rarefatta. Un personaggio che mi è piaciuto tanto, a livello proprio narrativo, è il personaggio di Edoardo, che è uno degli uomini su cui si sviluppa tutta la vicenda, che è appunto il cugino di Anna, la mamma di Elisa. Lui ha origini nobili, anzi è nobile, scusate, ed è Anna che ha appunto origini nobili, però non è nobile perché è povera. La cosa che mi è piaciuta è Edoardo è proprio un personaggio veramente negativo all'interno di tutto il libro, è veramente un personaggio, cioè, di quelli che non vorresti averci mai niente a che fare, proprio tutte le cose più negative ce le ha lui. Però mi è piaciuto tanto perché, nonostante lui facesse proprio schifo a livello proprio di... come persona, nessuno, non c'è stato mai nessuno all'interno del libro, a parte un personaggio, che si sia reso conto di quanto fosse negativo e malvagio quel personaggio. Tutte le persone si sono create delle illusioni, delle aspettative, si sono creati proprio, sono fatti un castello in testa, hanno idealizzato questo personaggio come se fosse una cosa, cioè, come se fosse super positivo. Infatti, un'altra cosa che succede nel libro è che tutti i rapporti che ci sono tra i vari personaggi sono malati, sia per quanto riguarda il rapporto madre-figlia, che è sempre negativo, è sempre malsano in qualche modo, perché Cesira, che è la nonna, era una persona arida, cattiva e trattava malissimo a sua figlia Anna. Al contrario, la madre Anna ignora completamente la figlia Elisa e la figlia Elisa si sacrifica per lei in tutti i modi possibili e immaginabili e la madre è proprio mai un grazie, proprio non la degna neanche di uno sguardo. Quindi c'è sempre un rapporto veramente brutto tra madre e figlia, ma non solo tra madre e figlia, in generale, anche con tutti i personaggi, che è proprio un rapporto di menzogna, un rapporto che porterà poi anche alla pazzia di alcuni personaggi. È proprio un rapporto malsano, cioè, ovunque. L'unica persona che si salva è appunto un personaggio che è abbastanza marginale, che è appunto il personaggio di una prostituta che si chiama Rosaria, e lei si distingue un po' dagli altri. Lei vede... Edoardo lo vede come... com'è. È difficile parlare di questo libro senza fare spoiler, perché succedono un sacco di cose, e ogni cosa è funzionale ad un'altra, quindi non vorrei dire cose, però succedono un sacco di cose, non tanto a livello di storia, ma quanto a livello proprio di... cioè, succedono le cose proprio nella mente delle tre protagoniste. Cioè, addirittura c'è una delle tre donne che si autoscrive delle lettere da sola, e si autoconvince che il mittente inventato delle lettere sia innamorato di lei. Giusto per farvi capire il livello di follia. Comunque, in generale, questo libro è bellissimo, io vi consiglio di leggerlo, e ringrazio anche tutte le persone che l'hanno letto con me. Dobbiamo ancora discuterne, ma spero che ne discuteremo presto, e poi vediamo quando esce il video. Comunque, io ve lo consiglio tantissimo, leggete Elsa Morante, leggetemi Antonio Sortilegio. Magari non vi consiglierei di partire con questo, se non avete mai letto nulla, magari partite con L'Isola di Arturo, perché questo libro è molto lungo, come diceva, molto lento, in certe parti è prolisso, perché comunque tutti i personaggi sono, comunque, lei racconta la vita di tutti i personaggi, tipo dall'infanzia fino alla morte, più o meno. E quindi è proprio, tutti i personaggi sono spiegati benissimo, quindi comunque è un libro che richiede il suo tempo. Quindi io vi consiglierei di partire dall'Isola di Arturo, perché è un pochino più immediato, però anche questo è veramente bello. Adesso vorrei leggere anche la storia. E niente, se questo video vi è piaciuto, mi mettete mi piace. Se vi ho un po' convinto a leggere questo libro, potete acquistarlo con il link che vi metto qui sotto. Io guadagnerò una piccola percentuale sul vostro acquisto, se lo prendete su Amazon. E basta, ci vediamo nel prossimo video e vi mando un saluto. Ciao!